Musica Nuova edizione del TG Question Time, buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento con il sindaco di Novara Alessandro Canelli, buonasera. Buonasera a voi. Doverosamente dobbiamo parlare di quanto è successo questa settimana, vale a dire la chiusura del ponte del Terdoppio che ha creato alcuni disagi, diciamolo soprattutto nel primo giorno di chiusura, ma anche perché c'è stata una concomitanza con due incidenti stradali. Oggi la fluidità del traffico ovviamente rimane sostenuto, però è migliorata. Che cosa è successo? Perché quando lei ha parlato, ovviamente ha dovuto interrompere l'accesso a quel ponte, ha detto, e ha messo già le mani avanti probabilmente, preferisco prendere insulti piuttosto che vedere appunto un incidente proprio su quel ponte. In pratica si erano raggiunti i livelli di guardia e è stata doverosa la chiusura. Sì, preferisco prendere insulti piuttosto che vedere il ponte crollare con qualche macchina che ci passa sopra, più che un incidente, c'è proprio una tragedia. Quindi preferisco prendere insulti piuttosto che vedere una tragedia. E così è stato, lei l'aveva già previsto probabilmente. Noi abbiamo chiuso quel ponte perché poi verrà spiegato meglio probabilmente dall'assessore Zocan. Domenica sera alle 20 avremo proprio una lunga intervista con l'assessore competente. Che dal punto di vista tecnico procedurale darà tutte le spiegazioni possibili ed immaginabili. Noi facevamo una corsa contro il tempo proprio perché sapevamo che quel ponte poteva non reggere troppo, però rispettando le procedure di legge che prevedono l'individuazione delle risorse, l'assegnazione della progettazione, il bando, l'assegnazione del bando a una ditta specializzata che potesse in tempi più rapidi possibili progettare e costruire e realizzare il rifacimento della viabilità su quell'area che prevede l'abbattimento del ponte attuale e la sostituzione con un nuovo ponte. Un nuovo ponte che tra l'altro arriva dagli Stati Uniti d'America che è stato già ovviamente ordinato, doveva partire il 4 di febbraio, partirà il 22 di febbraio per delle problematiche di approvvigionamento che in questo momento ci sono in tutto il mondo, mica solo per Novara, visto tutte le tensioni internazionali che ci sono. Comunque questo ponte arriverà verso la metà di marzo. Noi speravamo di poter continuare a far transitare le macchine sul ponte del Terdoppio, però purtroppo le fessurazioni si sono aperte, quindi abbiamo deciso, per non far rischiare niente a nessuno, di chiuderlo, di chiuderlo completamente e comunque sia, visto e considerato che l'altro ponte, il 25 aprile, era possibile sospendere temporaneamente i lavori per riaprirlo in doppio senso, di far sfiatare il traffico dall'altra parte in attesa del rifacimento del ponte del Terdoppio. Quindi qui non è stata messa nessuna pezza, noi stiamo cercando di coniugare la velocità dell'intervento sul Terdoppio con ovviamente il rispetto delle procedure amministrative e delle procedure tecniche che noi non possiamo intervenire su quelle, perché ci sono dei dirigenti, degli ingegneri strutturisti, dei responsabili del procedimento, dei direttori dei lavori, che ci dicono le cose che si possono fare in tempi rapidi e le cose che invece non si possono fare in tempi rapidi. Quindi a quel punto di vista lì noi siamo, diciamo così, un po' legati anche a questa situazione. Detto questo però, detto questo, la città non è divisa in due, ci sono grandi problemi di traffico in entrata e in uscita della città che c'erano già prima quei ponti aperti peraltro, perché già prima quei ponti aperti tra le 7 del mattino e diciamo le 8 e mezza, un quarto alle 9 del mattino c'è un grande afflusso di macchine dall'esterno che arriva sia dalla zona di Gagliate Pernate sia dalla zona del Milanese, Trecate e quant'altro, verso la città e che ovviamente crea degli ingorghi in ingresso alla città. Come avviene in tutte le città comunque, perché è un annoso problema questo sicuramente. Così come c'è tra le 5 del pomeriggio e le 6 e mezza, un quarto alle 7 del pomeriggio è lo stesso problema in uscita dalla città, ovvero quando si chiudono gli uffici la gente deve riuscire a tornare nelle proprie abitazioni fuori dalla città. Quindi questi sono due problemi che c'erano già all'inizio, si sono un po' aggravati a causa della viabilità, sicuramente. La gente giustamente arrabbiata dice ma quanto tempo ci vuole? Ma quanto tempo ci vuole? Lo dico anch'io, quanto tempo ci vuole. Secondo voi io sono il primo a non volere che ci voglia così tanto tempo, per l'amor del cielo perché non è che mi piace a me aspettare così tanto tempo perché vengano fatti dei lavori su due manufatti importantissimi sulla viabilità in ingresso e in uscita della città. Però noi dobbiamo rispettare delle norme. Poi ci sono degli appalti che danno ovviamente la possibilità delle aziende di partecipare. Certe volte sei infortunato come nel caso del terdoppio. Certe volte magari trovi delle problematiche in alcune aziende che magari hanno preso degli appalti ma ritardano perché hanno problemi di fornitura e quant'altro. Sono i tipici casi in cui ci sono delle problematiche di realizzazione che troviamo in tutto il mondo, in tutta Italia e anche se mi consentite nei lavori privati perché ho sentito tantissime persone che si sono lamentate negli ultimi due anni e mezzo per i ritardi nei lavori sui 110, sulle ristrutturazioni e quant'altro. Anche quelle più piccole. Perché è ingolfato il mercato e quindi molto spesso ci sono anche problemi di forniture. Il ponte del terdoppio ha un problema di fornitura? Speriamo di no perché doveva arrivare, c'è un piccolo ritardo di due settimane perché doveva arrivare un ponte che doveva partire il 4 di febbraio dall'America. Dalle Stati Uniti e adesso partirà il 22 di febbraio. Ci sono dei problemi di fornitura dei parapetti sul corso 25 aprile, sono tutte problematiche che si realizzano. Ma noi le risorse e l'avvio dei bandi per poter fare questi progetti l'abbiamo fatto nei tempi giusti, utili. Poi se la magistratura blocca doverosamente per dieci mesi la realizzazione dei lavori da quando è crollato il parapetto del 25 aprile. Per dieci mesi noi non possiamo fare niente. Spero che questo venga valutato come non una colpa dell'amministrazione visto e considerato che non siamo noi che abbiamo deciso il sequestro. Ricordiamo infatti, ne avevamo parlato proprio ancora la settimana scorsa, il ponte del terdoppio voi non avreste voluto chiuderlo se non proprio per pochissimi giorni quando sareste arrivati alla conclusione poi dei lavori e della posa di questo ponte. Quindi sicuramente lungi dall'amministrazione chiudere il ponte per più tempo. Però detto questo, scusi se finisco il concetto. Allora, chiude il ponte del terdoppio l'altro giorno, il giorno dopo, al mattino presto, succede un incidente che quasi mai è successo sulla statale Novara-Trecate. Perché la sfortuna è cieca ma quando vuole ci vede molto bene. In quel momento lì cosa è successo? Che si è bloccato tutto il traffico. Quindi è evidente che tutti quelli che volevano fare la via alternativa per poter rientrare in città che arrivavano da Gagliate e Pernate e che transitavano solitamente sul terdoppio hanno dovuto andare sul corso Milano, l'hanno trovato tutto bloccato e tutti hanno pensato che fosse colpa del fatto che fosse chiuso il terdoppio. Ma non è così. Anche se fosse stato aperto ci sarebbe stato disagio. Se fossero stati aperti tutti i ponti del mondo, con tutte le vie alternative del mondo, quel blocco lì ci sarebbe stato comunque, ci sarebbe stato casino comunque sulle strade. Infatti poi nei giorni a venire insomma... È stato molto più fluido. Si è organizzato. Quando piove è ovvio che si aumenta il traffico, ma questo avviene anche con i ponti aperti. Lei ha parlato di sviluppo della città di Novara anche nell'importante incontro del tour della stampa che si è tenuto questo pomeriggio al castello di Novara. Ci sono state anche diverse proposte su come vedere la Novara del futuro. Una Novara su cui voi state già lavorando da tempo, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, il miglioramento proprio del traffico cittadino, revisione della ZTL. Quindi è già in atto tutto questo? È già in atto, come se già è in atto tutti i lavori che sono partiti. Tutti dicevano, ma voi parlate, parlate, ma non parte mai niente. Allora, sulla trafila che una pubblica amministrazione deve fare per far partire dei lavori, io sono d'accordo con chi dice che è una cosa fuori dal normale. Tutti i sindaci d'Italia lo dicono, non lo dico soltanto io. Veramente ci sono delle procedure, degli appesantimenti burocratici che sono eccessibili. Infatti noi chiediamo da tempo semplificazioni nelle procedure sul modello di quelle del PNRR. Perché non si capisce perché per il PNRR ci possono essere delle procedure semplificate e per tutti gli altri lavori no. Sono sempre lavori no. Però detto questo faccio sommessamente notare che tutte le cose che nel corso degli anni abbiamo annunciato di voler fare si stanno tutte piano piano concretizzando. Qualcosa più velocemente, qualcosa ci vuole diciamo così un po' più di tempo. Perché sono operazioni complesse che devono essere, che diciamo così comportano di dover mettere insieme tantissime componenti, sia da un punto di vista procedurale, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista progettuale. Quindi sono cose piuttosto complicate. Tanto per cominciare avevamo detto che avremmo fatto il parcheggio sotterraneo alla Curia per poter petrolizzare la Piazza Marti. Il parcheggio sotterraneo lo stanno facendo. Avevamo detto che avremmo costituito la scuola della moda. Ci è voluto tanto tempo, ma la scuola della moda è attiva da un anno e mezzo. Avevamo detto che avremmo dato il via per la riqualificazione di Casa Bossi e dell'ex Macello. Benissimo, abbiamo fermato dal notaio la costituzione del fondo. Adesso se qualcuno va all'ex Macello vede che ci sono dentro le ruspe che stanno pulendo e cantierizzando perché parte la riqualificazione dell'ex Macello e di conseguenza anche quella di Casa Bossi. Ci è voluto tanto tempo, ci sono voluti 4 anni per iniziare a fare questa cosa qui. Però a Casa Bossi aspettavamo da 30, quindi 4 anni non accettabili. Avevamo detto che avremmo buttato giù case popolari faticenti, brutte, da ricostruire completamente. Lo avevamo detto e lo stiamo facendo. Perché se adesso uno si fa in giretto in via Bonola, lì è tutto cantierizzato e fra poco cominciano le demolizioni. Abbiamo dovuto suppostare le famiglie che c'erano dentro prima. Avevamo detto che avremmo ricostruito Cascina Cascinetta. Se uno fa un giretto in Cascina Cascinetta adesso, che è via Poletti, angolo via Calvari, vedrà che lì è tutto cantierizzato e stanno partendo i lavori per fare nuove case popolari. Avevamo detto che avremmo liberato e ricostruito l'ex Villaggio Tav. Se uno si fa un giretto all'ex Villaggio Tav, invece che trovare 560 famiglie dentro dei container a dormire, adesso vede che non c'è più nessuno lì dentro perché li abbiamo ricollocate tutti, è tutto cantierizzato. Hanno cominciato a scavare per fare le fognature e per poter costruire un nuovo quartierino. Avevamo detto che saremmo intervenuti sul castello per ricostituire le mura del fossato e quant'altro. Ci sono voluti tre anni, ma adesso se uno fa un giretto lì al castello vede che ci sono tutti i ponteggi con gli operai che lavorano, a rilento magari, ma lavorano, per ricostituire tutte le mura del castello e fare tutte anche le staccionate. Adesso verranno rifatte anche tutte le staccionate. Abbiamo detto che avremmo fatto tante cose e tutte le cose che abbiamo detto che avremmo fatto si stanno facendo. Piano, qualcuna più veloce, qualcuna meno veloce. Il centro sociale, avevamo detto che l'avremmo riqualificato, finalmente è arrivato il finanziamento. L'abbiamo affidato all'università, adesso tocca all'università fare il bando e fare la riqualificazione del centro sociale facendo un nuovo campus universitario. E potrei continuare per un'altra mezz'oretta su tutta una serie di attività che sono in corso e che sono tutte qua con i finanziamenti, con lo stato di progettazione e che cambieranno notevolmente il volto della città da qui ai prossimi tre anni. Per fare i lavori ci vuole tempo, ci vuole costanza, ci vuole anche un po' di pazienza e ci vuole capacità di sopportazione dei disagi. Perché se no poi è inutile lamentarsi che non si fanno le cose se non si è in grado di sopportare i disagi, sarebbe molto meglio sedersi, non fare niente, far passare il tempo e nessuno si lamenta. Le chiedo una cosa, a scanso di equivoci perché sicuramente arriverà questa domanda, nell'elenco non c'era l'ospedale, il nuovo ospedale, ma perché? Perché non riguarda... Il nuovo ospedale, che è un'altra, diciamo così, grande criticità del nostro territorio, anzi forse una delle più grandi, se non la più grande, il nuovo ospedale come tutti sappiamo era partito con una progettazione, innanzitutto non è il comune che lo fa. Chiariamo questo aspetto qui. L'ospedale è di competenza regionale, però il comune ovviamente è molto interessato, perché avere un ospedale nuovo nel proprio comune non è che ce l'hanno tutti e quindi è un vantaggio da un punto di vista sanitario, economico, occupazionale, di grandissimi interessi per un comune. Ora, il progetto che valeva 320 milioni di euro originariamente, il bando non è andato a buon fine, hanno messo nuove risorse dalla regione, dal ministero, è andato deserto anche quello, in prima pubblicazione, ora stanno rivedendo i piani economici e finanziari per metterci nuove risorse al fine di arrivare a un livello di appetibilità dell'opera tale per cui possano, diciamo così, partecipare dei soggetti qualificati a farlo. Perché costruire un ospedale non è come costruire una villetta, cioè comporta delle competenze di altissimo profilo, sono poche le aziende in Europa che riescono a fare una cosa di questo genere qui. Quindi, per quanto mi riguarda, io sono ancora fiducioso perché penso che con questa nuova revisione del piano economico-finanziario ci possa essere veramente l'interesse da parte delle grandi aziende specializzate nella costruzione e nella realizzazione di edilizia sanitaria di partecipare al bando. Per noi sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Bene, senta, siamo in chiusura, è periodo di carnevale, quindi siamo nel pieno tra il giovedì grasso e il martedì grasso. Le chiavi della città le darà a Rebiscottino o se le viene strette strette? No, 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 gliele do pure a lui. Un po' di incombenza anche alla maschera cittadina. La ringrazio, alla prossima puntata. Grazie a lei, buonasera. E noi ci rivediamo, come anticipato, domenica, ore 20, proprio per parlare nel dettaglio della trafila burocratica, di tutto quello che c'è stato dietro, il ponte della discordia, il ponte del terdoppio. Arrivederci. Arrivederci.